Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, ha vissuto momenti difficili finendo in ospedale a causa di un malore legato al suo passato intervento per un tumore al cervello. Attraverso i social ha comunicato ai suoi fan di essere nuovamente ricoverato e di aver subito una risonanza magnetica per controllare eventuali problemi derivanti dall'intervento passato. Dopo una settimana di attesa per i risultati, ha rassicurato tutti, dicendo di sentirsi meglio e ringraziando per i messaggi di affetto ricevuti. Dopo gli esami, Francesco è stato dimesso e ha fatto ritorno a casa per riposarsi in attesa delle risposte della risonanza magnetica. L'auspicio di tutti è che non ci siano complicazioni legate al tumore al cervello e che possa superare anche questa difficoltà. La sua salute è al centro delle preoccupazioni di chi gli vuole bene e la speranza è che possa presto tornare in forma e continuare la sua battaglia contro la malattia. La vicenda di Francesco Chiofalo ha destato preoccupazione tra i suoi sostenitori, che si sono mobilitati per mostrargli il loro affetto e il loro sostegno in questo momento delicato. La sua forza e la sua determinazione nel combattere la malattia sono un esempio di coraggio per tutti coloro che lo seguono e lo apprezzano.